La solita Italia verrebbe da dire. L'emendamento che dovrebbe essere inserito nella legge di stabilità per garantire di poter costruire nuovi impianti sportivi e ammodernare i vecchi fa già discutere e i nuovi progetti di Catania e Palermo pronti da tempo, Librino e Lex Velodromo restano custoditi nei cassetti. Il tema della discussione era chiuso in quattro righe delle 67 complessive del nuovo emendamento, quelle nello specifico in cui sono inseriti insediamenti edilizi o interventi urbanistici anche in aree non contigue all'impianto. Apriti cielo, mezzo PD, parte di scelta civica e 5 stelle contrari, ma anche il vice ministro Fassina. Timore di speculazioni e di cemento selvaggio, un po' gli ostacoli che avevano bloccato per anni la vecchia legge al Senato. E così l'emendamento dovrà essere riscritto. Il punto è uno, chi si assume l'onere di pagare per costruire un nuovo stadio vuole rientrare dalle spese e magari guadagnarci e per farlo servono strutture che possano aiutarlo a recuperare investimenti. Tutto deve essere fatto rispettando l'ambiente e le persone, ma è il caso di ricordare che col nuovo emendamento occorrerà meno di un anno e mezzo per cominciare i lavori. Juventus e Udinese, per avere le autorizzazioni per lo Stadium e il nuovo Friuli, hanno atteso 10 anni. In un anno e mezzo potrebbero partire progetti e si creerebbero nuovi posti di lavoro. In un momento di crisi la politica ha il dovere di pensarci e di non bloccare tutto. La ripresa economica parte anche da questo.